finalmente ragazzi è finita finalmente è finita è finita questa telenovela del calcio mercato anche quest'anno allora ma allora vediamo un po allora il calcio mercato è terminato un'ora fa e ballotelli è rimasto disoccupato consiglio caldamente a ballotelli di iscriversi su arrastat o manpower o info jobs in qualsiasi altro sito dove magari può trovare un altro lavoro perché comunque la sua carriera si può dire si può definire conclusa una volta per tutte meglio così fondamentalmente un attimo qualcuno spera che forse gennaio qualche squadra se lo può riprendere tutto quanto è altamente improbabile a meno che veramente magari c'è qualche squadra che senza giocatori per via del covid allora se lo possono prendere qualche mesetto ma tanto per perché deve sostituire qualche punta così ma è estremamente improbabile ballotelli ne parliamo dopo parliamo di questo calcio mercato calcio mercato finalmente terminato dopo una un'estate molto molto strana possiamo dire un'estate molto un'estate molto strana su youtube come al solito tanti youtubers che io conosco che hanno sparato una marea di stronzate una marea di puttanate tra messi che arriva la juventus oppure che forse se lo prende all'inter e poi altri youtubers che vantano di avere agganci con diciamo i vertici della propria squadra con cui difano vabbè tante tante stronzate ma ogni volta che c'è ogni ogni estate ogni volta che c'è il calcio mercato su youtube si scatenano subito tutti quanti tutti a fare la corsa all'informazione di chi ha le fonti attendibili tutto quanto quando poi alla fine due tre youtubers che conosco io personalmente io sono molto bravi fanno veramente fanno veramente informazione gli altri sono tutti la mare una massa di cazzoni che non capiscono un cazzo che sparano stronzate per fare quattro video ma al di là di questo parliamo di questo calcio mercato calcio mercato che è stato né nel senso che molti prevedevano che sarebbe stato soltanto una sorta di una sorta di scambio cioè non ci sarebbero state grandi acquisti tutto quanto e invece diciamo c'è stato qualcosa è stato medio con qualche piccola sorpresa come ad esempio la juventus che è arrivato morata e all'ultimo proprio qualche ora fa arrivato arrivato chiesa dalla fiorentina molte persone che conosco sono scettiche che chiesa possa fare ben poco alla juventus io invece secondo me personalmente chiesa la juventus può fare veramente molto molto è un giocatore comunque molto bravo che veramente si è messo in una squadra buona come ad esempio appunto la juventus soprattutto si è affiancato con ronaldo e di fronte con morata può fare veramente tanto sicuramente può fare molti assist molti più assist di quanto ne ha fatti la fiorentina diciamo gli acquisti principali della juventus sono stati morata chiesa e al centrocampo artur poi vediamo un po pirlo come come sistemerà la squadra la juventus la partita contro la roma vabbè diciamo non ha dato il meglio di sé ma secondo me comunque questo campionato sarà pure molto influenzato per via che molti giocatori si ammaleranno quindi non potranno giocare e quindi molte partite saranno tra virgolette discutibili perché magari mancano i titolari non dico che sarà completamente falsato ma poco ci manca poi questo è per quanto riguarda la juventus andiamo a vedere un'altra squadra oltre alla juventus belle squadre che hanno diciamo hanno fatto molto rumore sono state principalmente la juventus e la roma e qualcosa sull'inter con vital ma niente di che ho visto poi il video di asso di roma mamma mia assolutamente sta veramente è incazzato nero è incazzato nero per via che comunque la roma ha concentrato tutte le sue energie per smoling per smoling e non ha e ha ceduto diversi giocatori e potrebbero esserci dei problemi sulla punta ma noi vediamo vediamo comunque il campionato è bello lungo intanto ha fatto un bel pareggio fatto un bel pareggio e si è sottottenuto il gioco che hanno fatto molto bene perché se mandano via gioco poi erano cazzi amari gioco adesso col fatto che rimane alla roma sicuramente giocherà con un po più giocare in maniera un po più decisiva perché sa che il suo destino quest'anno almeno quest'anno è per la roma sa che deve dare il meglio di sé comunque quindi non ti preoccupare caro vasso il campionato è bello lungo quindi poi c'è poi c'è il calciomercato di gennaio che sicuramente se la roma non ha dato il massimo stai tranquillo che farà qualcosa per rimediare a gennaio hai detto saggiamente dobbiamo arrivarci a gennaio ma già con questa rosa qualcosa può sempre fare qualcosa se ha pareggiato contro la juventus fidate che può fare bene può fare molto 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 durante almeno nella prima fase di campionato dunque vediamo un po la roma allora la roma oltre smalling allora oltre smalling pedro ha preso in attacco pedro e kumbulla dietro pedro è molto bravo kumbulla non lo so mi dispiace che ha mandato quello che mi dispiace che ha ceduto definitivamente florenzi kolarov e claire chic khalinic se non sbaglio anche che la no claire te no sì se non sbaglio anche la verte però 7 1 da pellegrini 27 da pellegrini e ha fatto benissimo perché pellegrini ha fatto veramente molto lo scorso anno le squadre che hanno fatto più parlare senza dubbio sono state la juventus e la roma mentre l'inter solo con l'acquisto di vitale è stato diciamo il per il fulcro principale è stato è stato stato vitale l'acquisto di vitale vediamo un po come andrà quest'anno speriamo che faccia qualcosa speriamo che faccia di più l'inter e che possa venente mettere i bastoni tra le ruote alla juventus insieme poi ovviamente il napoli la lazio altre squadre per evitare che venga questo anche questo decimo scudetto per quanto riguarda il calcio mercato del napoli dunque ma il napoli ha acquistato o cianen o si o simen in attacco petagna e petagna diciamo i due acquisti principali è petagna petagna diciamo è sicuramente l'acquisto e l'acquisto principale del napoli ma non è che ha fatto molto il napoli comunque il milano non ha fatto niente di che la lazio è rimasta invariata principalmente non è che ha qualcosa ma non si è tenuta giustamente immobile correa lui salberto e e quell'altro se li sono se li sono tenuti bene giustamente perché sono i volchi principali i pezzi più importanti della juventus e questo è quanto il milan niente di che i brevi moce vabbè rimane al milan tutto quanto quindi niente di che questo è per quanto riguarda il calcio mercato un calcio mercato meno morto di quanto si pensava diciamo si pensava che dovesse essere diciamo qualche piccola sorpresa un po vivace ad ha stimolato gli altri youtubers a sparare cazzate con messi di messi e altre stranzate del genere quindi diciamo allora ragazzi quando vedete come sapere quando un calcio mercato riserva sorprese o meno quando guardate su youtube che ci sono alcuni youtubers che sparano cazzate immonde allora lì che allora vuol dire che il calcio mercato sarà molto piccante se invece vedete youtubers che non dicono niente o non ne sparano di cazzate vuol dire che il calcio mercato è morto questo è quanto parliamo adesso poi di ballotelli ballotelli il fulcro principale il calcio mercato è terminato e ballotelli rimane disoccupato consiglio caldamente a ballotelli di iscriversi a rastad manpower o info jobs magari per trovare un'occupazione part time almeno fino a gennaio anche se secondo me a non solo riprende nessuno ma detta questa battuta diciamo tolta questa battuta a parte e non è che io ce l'ho con ballotelli a me ballotelli non è mai piaciuto come giocatore ma non per due motivi primo perché comunque è sempre stato sopravvalutato magari ogni azione buona veniva con si veniva fatta passare come un giocatore che aveva talento quando in realtà secondo me giocatori con talento sono ben altri e poi passava 10 partite che faceva schifo e giustamente gli andavano addosso forse anche in maniera esagerata però comunque lui faceva passare tutte queste cose che le manifestava sempre sui social su instagram eccetera e che poi comunque tutto questo condizionava il suo lavoro in campo fondamentalmente ma la responsabilità principale la sua perché se tu hai addosso tutta la stampa che ti rompe i coglioni che fa di tutto comunque per farti passare diciamo magari quello che non sei tu non puoi metterti studio su instagram a pubblicare storie o video e non puoi permetterti magari che ne so di fare lo scemo in campo di essere svogliato di di fare il capriccioso perché comunque se tu fai così fai il gioco della stampa fondamentalmente devi essere indifferente anche di fronte alle peggiori porcate e dare sempre il massimo per la tua squadra e non ti devi far minimamente condizionare ballotelli poi ovviamente si sa anche con il carattere che c'ha molto presuntuoso tutto quanto si è rovinato la carriera si è rovinato comunque la sua carriera anche per il suo carattere da persona presuntuosa persona arrogante persona comunque anche fuori dal campo non tanto non tanto esemplare fondamentalmente non è mai stato di certo come un immobile come un ronaldo come comunque iarella come un gabbiatini come anche come un iguain che ogni tanto anche lui era un po vivace però iguain è comunque sempre un campione fondamentalmente sempre un giocatore campione ma si vabbè ha messo un po la panza vabbè tutto tanto però comunque un giocatore che è sempre stato disciplinato anche quando era vivace comunque ha sempre cercato di dare il massimo l'unica squadra con cui si è veramente trovato male iguain è stato il milan fondamentalmente ma lì era un problema di spogliatoio comunque ballotelli invece comunque è andato ha sempre ha sempre combinato guai ha sempre combinato guai ha sempre fatto un sacco di casini poi l'ultima col brescia col brescia proprio non ne parliamo proprio col brescia ne ha ne ha fatta veramente ne ha fatta l'ha fatta veramente grossa cioè non si presentava gli allenamenti era svogliato non si collegava internet per seguire gli allenamenti che faceva tutto quanto e in più con ciò si è pure permesso di ricattare le squadre per i tamponi controlli cose tutto quanto lì proprio non solo ti sei scavato la fossa col brescia ma ti sei scavato la fossa anche con le altre squadre che potevano essere eventualmente interessate io ho letto un articolo l'ultimo articolo è di serie news calciomercato corsa tre per ballotelli spunta anche un'italiana la squadra italiana sarebbe il crotone crotone che poi non se l'è preso fondamentalmente ma chi cazzo si va a prendere uno come ballotelli che è svogliato che non fa un cazzo perché non fa un cazzo che non ogni volta ogni volta che si verifica un problema lui lo ingigantisce ancora di più che non collabora con la squadra dove ogni ogni cosa che addirittura come ha fatto con breccia che si è messa a ricattare a sputtanare la si è messa a sputtanare la propria squadra contro il presidente perché per in adempimento economico perché non gli pagavano lo stipendio tutto quanto in un periodo di crisi tutto quanto quando i soldi ce li hai i soldi quando i soldi ce li hai devi soltanto avere un po di pazienza e ti metti a fare il ricattatore contro la società tutto quanto capisci che facendo questo comportamento non solo ti proprio metti una pietra tombale definitiva con la tua squadra ma qualsiasi altra squadra non si prende qualsiasi altra squadra non si prenderebbe mai un giocatore che prende e comincia prende e comincia a ricattare per inattempimenti economici cose e in più non fa neanche il proprio fa neanche il proprio dovere a sto punto nessuno lo prende preferiscono giocare anche in cui preferiscono avere una rosa di 15 giocatori di 16 gioco di 15 giocatori piuttosto che avere un sedicesimo giocatore tipo lui che fa questi danni che rovina la squadra fondamentalmente quindi io consiglio consiglio molto a ballotelli di segnarsi su rasta da manpower e for jobs e cercare magari imparare un nuovo mestiere quello che sa fare e di abbandonare il calcio perché uno come lui non serve senza offesa senza denigrazione senza attaccarlo sul personale tutto questo poi niente con questo è tutto ragazzi fatemi sapere anche voi cosa ne pensate di questo calcio mercato 2020 vi lascio sui scrivete nei commenti condividete questo video su tutti i social iscrivetevi al canale e ci sentiremo prossimamente per parlare di un prossimo video che mi hanno chiesto in molti di fare che appunto il coronavirus per chi ha parenti magari che credono nel parenti amici stretti che credono al complotto per il nuovo ordine mondiale va bene con questo è tutto ci sentiamo ciao a tutti